Va bene, ora te lo monto il video, devo pulire gli occhiali così faccio più FPS Quando fai più FPS pulendoti gli occhiali Se pulisci gli occhiali inizi a fare i video in 8k a 120kps E che figa il figa, che figa il figa Altro l'altro è bella cosa di caparezza l'hai messo Non è niente che l'ho scelta L'ho scelta Mica 300mg di file di mega Ma lei è un cubico 00 a fine prima tempo Quindi molto probabilmente il video di Capastep esce prima di video Mh Ma devi dare la chiave di decrittazione E non No In realtà non serve la chiave di decrittazione Non la chiedi E' il mio mini danza Aspetta un attimo La pastella Prova con questo Lo faccio Io non capisco E' il mio profilo, è tutto E' il mio profilo! Cagà E' il mio profilo! E' il mio profilo! Grazie.